Ben ritrovati e ben ritrovati, finalmente c'è l'annuncio ufficiale, quando vi avevo raccontato come mi risultasse al 101% che Cristiano Giuntoli il 4 luglio fosse alla continassa, non l'ho fatto per illudervi, sebbene sia stato molto difficile, barra impossibile, intercettare fisicamente l'arrivo di Giuntoli presso il quartier generale Bianconero, però poi avevamo avuto conferme totali da fonti UE che ciò si fosse verificato, ovvero che Cristiano Giuntoli ha terminato il suo rapporto il 30 giugno con il Napoli, poi il 4 luglio si è arrivato alla continassa per firmare il contratto, fare le foto, gli lasciare la prima intervista, conoscere l'ambiente, visitare le strutture, insomma tutto ciò che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, oggi è sfociato nell'ufficialità, che è la cosa più importante. Cristiano Giuntoli è il nuovo football director della Juventus, in carico fino alla conclusione della stagione sportiva 2027-2028, quindi un contratto pluriennale, un progetto ambizioso, ad ampio raggio e che fa capire quanto la Juventus tenesse a portare Giuntoli a Torino perché riteneva che fosse l'uomo giusto il posto giusto e anche lo stesso Giuntoli, tra l'altro vi invito ad andare a vedere la sua prima intervista ufficiale ai microfoni di Juventus TV e domani mattina la analizziamo, ne parliamo perché è bella, a tratti molto toccante, beh evidentemente nella testa di Giuntoli c'era l'ambizione di fare un passo diverso, non dico un salto in più a livello qualitativo perché sarebbe anche rispettoso nei confronti del mondo napoletano, che mi sembra che a Giuntoli abbia dato molto per otto stagioni, evidentemente è stata rifagata la stessa moneta con grandissima attenzione ai dettagli, che hanno portato poi il Napoli a vincere lo scudetto, quindi Cristiano Giuntoli è il DS, campione d'Italia in carica e credo che anche questo status abbia invogliato la Juve ad aspettare Giuntoli, o Giuntoli o niente, ve l'ho sempre detto, se la Juve non fosse riuscita a prendere subito Giuntoli sarebbe andata avanti, con una struttura che cambia, che muta perché sempre la stessa Juventus ha comunicato dei cambiamenti. Allora, innanzitutto, e anche qui domani andiamo un po' più nel dettaglio, Francesco Calvo diventa ancora più apicale perché diventa Managing Director Revenue and Football Development, ovviamente il riporto del Chief Executive Officer, quindi Maurizio Scannarino. Cosa significa in soldoni? Che Calvo, che già aveva un ruolo molto importante perché era Chief Officer, Football Officer del club, sostanzialmente diventa il numero due dell'azienda dopo Scannarino. Questo fa capire come anche qua siano state fatte tantissime chiacchiere, ma invece Calvo gode della massima stima da parte della proprietà che infatti lo promuove. Evidentemente il lavoro che ha fatto Calvo, in piena emergenza, post azzeramento del CDA, in un contesto difficilissimo tra campo ed extracampo, è stato particolarmente apprezzato e da Scannarino, e dal Presidente Ferrero, e dalla proprietà, quindi dall'ambiente Exor. Quindi oggi, al di là del fatto che sia stato annunciato Giuntoli, ma ce lo aspettavamo questo annuncio da un momento all'altro, secondo me la vera notizia è l'ulteriore salto che fa in su Calvo, che diventa, operativamente parlando, essenzialmente il numero due della società. Giovanni Manna, lo sapevamo, diventa Head of First Team, quindi a riporto del nuovo Football Director, diventa il numero due per quanto riguarda le operazioni della prima squadra. Credo che Giovanni Manna abbia dimostrato di avere le qualità per poter ricoprire un rincarico così importante, ha fatto la gavetta, con ottimi risultati ha coperto il ruolo di responsabile della Next Gen, e soprattutto in questo giugno, con la Juventus che attendeva impazientemente l'arrivo di Giuntoli, Manna si è ben comportato, ha venduto Kuluseski al Tottenham, ha fatto in modo che determinate priorità si risolvessero, quindi la conferma di Milik. Il rinnovo di Rabiot, ragazzi, il rinnovo di Rabiot è un'opera di Manna, che ha davvero lavorato tantissimo per fare in modo che si potesse arrivare a una conclusione positiva, e quindi opera sua. Mettere alla porta con quadrado, lavorare anche con il reparto scouting per individuare il sostituto del colombiano, e quindi portare in fretta e furia a Timothy Weah a Torino per battere la concorrenza. Insomma, io credo che a livello di caratteristiche Giuntoli e Manna possano coesistere tranquillamente. E poi c'è Federico Cherubini, che ricordiamo è inibito, diventa Chief of Staff, quindi una figura di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di comprendere cosa significa la Juventus, perché Cherubini qui da 11-12 stagioni ha ricoperto più incarichi, e quindi evidentemente, siccome è una persona che conosce ogni angolo della continassa, ogni angolo di Juventus, credo che confermare anche la tua figura sia determinante per aiutare lo stesso Giuntoli ad ambientarsi il prima possibile. Quindi sostanzialmente è una Juve che da oggi parte con il suo nuovo corso, il 7 luglio 2023, ricorderemo come una data importante per la storia recente juventina, perché l'area football, ma non solo, si ristruttura, propone un'evoluzione, propone un profilo esterno, l'arrivo di un profilo esterno è giuntoli, e credo che ci siano tutti i presupposti affinché questa struttura possa fare molto bene. Ora l'allenatore, il suo staff, i calciatori devono unicamente porre la loro concentrazione sul rettangolo di gioco, questo avrà chiesto loro, perché per tutti gli altri ambiti ci sono uomini che cureranno i propri orticelli, che dovranno trovare la giusta alchimia affinché la Juve possa essere davvero calibrata al millimetro. Noi abbiamo avuto concretamente che mancasse qualcosa, quella sensazione, quella percezione, un uomo di campo, un direttore forte, uno che con la sua rete di contatti potesse fare la differenza sia in chiave in mercato, ma anche nel lavoro quotidiano. Ecco, da quello che mi hanno detto, giuntoli sulla quotidianità della Juventus, si è già informato alla perfezione, magazzinieri, fisioterapisti, staff medico, staff tecnico, che arpirano un po' gli umori, quanto tempo trascorre assieme la squadra, e per squadra si intende il gruppo squadra, quindi non solamente i calciatori. Sono quei dettagli che fanno la differenza e che credo che poi abbiano portato il Napoli a costruire un sogno. Cioè il sogno Napoli viene costruito, ricostruito, ricostruito ancora dalla quotidianità. Cioè giuntoli è uno che lavora tantissimo con i suoi collaboratori. E questo fa la differenza, perché se c'è abnegazione, se c'è professionalità, comunque vai a caccia, vai a cercare di prendere i risultati importanti. Se sei passivo, se invece pensi di essere in un posto perché hai un ottimo cognome, perché ti debba essere quasi consentito e garantito dalla tua carriera, non si va da nessuna parte. Invece giuntoli è uno che più alza l'asticella, che più fa bene e più tende a migliorarsi. Poi solamente il tempo ci dirà se questo matrimonio sia destinato a essere redditizio per entrambe le parti, però quantomeno sulla carta è un matrimonio che ha motivo di esistere e come, perché credo che difficilmente la Juventus avrebbe potuto prendere una figura migliore. Niente, questo è. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate finalmente di questa ufficialità e della nuova riorganizzazione, direi, del processo area sport e non solo, con Francesco Calvo che viene sostanzialmente promosso. E niente, vi do appuntamento a domani, sicuramente in questo weekend il macro tema resterà l'arrivo di Cristiano Giuntoli e poi da lunedì ricordiamoci che inizia ufficialmente una nuova stagione, la stagione 2023-2024, che auspichiamo possa essere positiva, sicuramente più positiva della passata. Grazie. Grazie.